Ma voi andavate, tipo, anche alla materna insieme? E che sembrate fratelli. Se frequenti la Mark Rebellato Tennis Academy, succede... Ah, è vero, siete andati alla sua scuola. Compagni di Brand ha già 12 anni, perciò... Che cosa carina. Mai pensato di fare una cosa così? Un'academy? No, non potremmo permettercelo. E anche se mi dessero una borsa di studio, i miei non vorrebbero che diventassi maggiorenne in un ambiente così. Perché? Di cosa hanno paura? Allora, l'hai trovata lì, la tua ragazza? Oh, non è la mia. Sì, sì. E tu perché non fingi di avere una ragazza? Non so, da una donna all'altra. Oh no! Così sembra che sono una specie di... Playboy! Sì, guarda se la cava bene. Insomma, guarda. Allora. Vi capita molto spesso di volere la stessa ragazza? Non tanto quanto pensi. Davvero? No, abbiamo... Di solito abbiamo gusti diversi. E quindi dovrei essere lusingata. Beh, no. Non sei il gusto che piace a tutti. Also, voi insomma. Oh no! Allora. Allora! Allora! Allora!